Accordo raggiunto tra l'amministrazione di Cipagatti e sindacati. Ci saranno nuove agevolazioni fiscali per quanto riguarda l'abitare, che avvantaggeranno sia i proprietari degli immobili, sia gli inquilini in affitto. I proprietari pagheranno come cetolare secca sugli affitti il 10%, che è un risultato importantissimo su cui abbiamo lavorato da diversi mesi. E gli inquilini avranno una detrazione, oltre al canone calmerato, ma avranno una detrazione fiscale da 250 a 500 euro. Quindi è un traguardo molto importante per i cittadini cipagattesi, con una riduzione sostanziale di tasse sia per gli inquilini che per i proprietari. Questa norma riguarda solamente le abitazioni e non le attività commerciali. Inoltre non sarà retroattiva. Per poter usufruire delle agevolazioni fiscali dovranno essere annullati i contratti già stipulati per firmarne di nuovi. Questo è un importante strumento che va a recepire la Convenzione nazionale e soprattutto è rivolto a tutte le abitazioni che vengono locate a fini abitative. Sono stati divisi il territorio di cipagatti in diverse zone omogenee e dove vengono dati dei valori minimi e massimi per stare all'interno di questa Convenzione. Naturalmente, se non è un contratto assistito dalle organizzazioni sindacali, c'è bisogno, ai fini di ottenere questi vantaggi all'Agenzia delle Entrate, di un'attestazione di asseverazione da un'organizzazione dei proprietari e una dell'inquilino o semplicemente con un'attestazione unilaterale di una di qualsiasi delle organizzazioni che ha sottoscritto.